Ciao, ciao ragazzi, ciao Come state? Oggi nuovo format sul canale Suota la spesa Da Lidl Sono stata a Lidl perché dovevo acquistare delle cose In verità non dovevo andare proprio da Lidl Ma dovevo andare nel suo mercato Mi sono trovata a Lidl Quindi ho acquistato a Lidl Oggi mi vedete con gli occhiali Perché praticamente io li porto per Da lontano come diciamo Occhiali da riposo Ma ultimamente Ma ultimamente Diciamo che Ho proprio molta 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 difficoltà Nel Come dire Con la vista da lontano Quindi Eccomi qui con gli occhiali Spero Diciamo Di essere un po' più decente Perché senza Oddio Con C'è un accessorio Allora Ho due sacchettini Tutte cose più utili Diciamo Allora Io partirei con Questo Che è l'unica cosa di cipro Sono i cereal Cereal cookies Allora Sono andata a Lidl Con il mio fidanzato Sono andata a Lidl Con il mio ragazzo E lui È stato Tipo Qualche Qualche anno fa È stato in Spagna E aveva trovato Aveva mangiato Aveva provato Questi biscotti E li cercava Per Maria Monti Dopo tipo Quattro anni Li abbiamo trovati A Lidl E li ha voluti comprare Io l'ho seguito E quindi Ne ha preso un pacco lui E un pacco io Le ho già aperte A fine video Noi mangiamo Uno insieme Quindi Sono molto buoni Aveva proprio ragione Sono al cioccolato Ma c'erano Tipo Normali Ma io Casi al cacao Vi do Anche Vi dico Anche i pezzi Allora Questo qui Questi biscotti Sono costati 2,69 euro Poi Tre 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 Pacchi di dischetti Io mi trovo D'addio Stra bene Allora I dischetti Struccanti Li ho pagati 1,25 euro Al pezzo Però Un po' cari Perché comunque Da eurospin Se non sbaglio Ti prendo a qualcosa A meno Però Perché comunque Sono 70 Sono molto 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 Validi Quindi Tre E Settantacinque Per tutti e tre Poi Una coppia Di spazzolini Allora Dentalux Spazzolino Da denti Professional Io solitamente Utilizzo Questi Medium Apriamolo Inziamo Il mio Sarà quello rosa Non li ho mai provati Chissà come sarà Pagati 1,29 euro Ovviamente Tutta la coppia Pagati Pagati 3 Pagati Queste Soltette Per occhiali Grazie a tutti Grazie a tutti Pagate 95 centesimi A pacco All'interno trovate 52 salviette Da poter utilizzare per la pulizia Di fotocamere, occhiali, televisori E tutto quello che Trovate segnato qui E questo Lo abbiamo Poi Queste strisce depilatorie Per Comunque le parti più delicate E più piccoline del viso Quindi Sopracciglia, baffetti Io ne ho provate di oggi E sinceramente Queste della Sien Sono straordinarie Poi All'interno Troviamo 4 salviette Più 24 strisce depilatorie Con burro di carita e bio Olio di arcampio E olio di cocco Per questo appunto Vedete Conto meno sulla mia pelle Risultano molto delicate Queste le ho pagate 1 euro e 49 Poi Le mie adorate maschere Della Sien Ne ho prese due Solo che una L'ho regalata a mia mamma E questa Per belli Molto secche L'ho lasciata per me Allora Vi dico subito Perché è una delle mie preferite Perché Non sono troppo Pregne di prodotto Come quelle Carnier Che è veramente Un peccato Dover utilizzare la maschera E poi doverla buttare Queste hanno il Giusto prodotto All'interno Poi Si lasciano in posa Tra i 10-15 minuti E il risultato È davvero Pazzesco Io le ho provate tutte Anche Quelle Che si stendono Che non sono in tessuto Questa maschera Entrambe le maschere Però voi ne avete visto Una Le ho pagate Una sola 1 euro e 39 Per un totale Di 2 euro 88 Poi Ho voluto Provare Ecco Questi Rasoi da donna Che rumore Con testina Flessibile Lame rivestita in ceramica Perfetto per la zona Bichini Basta Il rasoio si è accettato No Tre lame All'interno del banco Se ne trovano 4 Il rasoio è questo Con la sua chiusura Sempre quando È flessibile Quindi Accompagna Un po' Come i rasoi Della vet Non della vet Della vet Non mi ricordo Così tutti e 4 Danno questa testina Flessibile Che dovrebbe In un certo senso Aiutare A rendere più Confortevole La depilazione Speriamo Mai provate La prima volta Pagate Come vi dicevo Pagate 1 euro E 99 Poi Ho Voluto Acquistare Questo Talasso Scrap Della Sien Allora Ho visto Le recensioni E dicono Che sia Uno dei migliori È che È Il Ziddub Di uno Scrap famoso È uno Scrap per il corpo Hai Un esfoliante corpo Vegano Con vitamina E E sale marino All'interno Troviamo Una spatola Una spatolina Con cui Prelevare il prodotto Io ancora Non L'ho Aperto Con voi Diretta Eccoci Eccoci Wow Veramente Molto Si può dire Scraproso Allora Quando L'ho Acquistato E l'ho Aperto In macchina Non era Così morbido Sarà stato Il calore Di casa Sicuramente Va Prima Mescolato Perché Comunque Ecco Ecco Il cocino È un po' Liquidino Ecco Vedete È un po' Liquidino Quindi va Sicuramente Facci Toto Per bene E lo Risigilliamo Alla Meno Pezzo Questo Scrap L'ho Pagato Quanto L'ho Pagato Questo Scrap 3 Euro E 79 Ci può Stare 600 Grammi Alla Fine Voglio Dire Molto Grande Poi Appunto Il pacco Di fazzoletti Che è Strapillino Love At First Bite Con Tutti Questi Cupcake Appunto Pagati 1,59 Io Questi Fazzoletti Qui Li Metto Sulla Scrivanita Durano Durano Un sacco Sono molto Comodi Come Ultima Cosa Ho già Aperto Anche Questi Sono Questi Cotton Fioc 100% Cotton Io amo Queste Scatole In Carta Questi Cotton Fioc Per Pulire Le orecchie Eccetera Questa Scatola Strappello Pagati 99 centesimi Questi Erano Gli acquisti Prima di Mandarvi La buonanotte Vorrei Mangiare Con voi Un biscotto Abbiamo preso Chi è? Lisa Abbiamo preso Lisa Qui Schade mani Lisa mani Lisa ragazzi questo è tutto io vi mando la buonanotte e vi ringrazio per essere stati con me vi ringrazio sempre per il sostegno vi leggo come sempre e mi riempite il cuore spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia rilassato noi in ogni caso ci vediamo al prossimo 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 video ciao 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 ciao